Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccomi qua. Ieri niente video, relax, totale, non volevo vedere neanche YouTube, non ho neanche guardato i video. Mi sono guardato la mia Inter, che adesso ne parleremo, ma prima di parlare dell'Inter dell'amichevole di ieri parleremo anche del mio video che ho fatto su Arnautovic, che ho letto tanti commenti, alcuni commenti che non la pensavano come me giustamente, quindi è giusto anche discutere con voi di quello che uno pensa. Ma prima di iniziare, è logico, vi devo ricordare l'iscrizione, il like al canale, se vi va di condividere e commentare quello che vi dirò. Allora, Arnautovic, io non ho detto che Arnautovic è scarso, io non ho detto che Arnautovic è un giocatore finito, io dico che Arnautovic non è un giocatore, secondo me, da stare nell'Inter in questa rosa e vi spiego il motivo. All'anno scorso, Arnautovic, quando arrivò, io ero contento. Perché? Perché guardavo il parco attaccanti dell'Inter e dicevo, abbiamo i due titolari e in panchina hai uno bello fisico e uno brevielino che sa giocare a calcio. Perfetto? Ok? Ci siamo. Quest'anno, che Sanchez va via, ti ritrovi Taremi al posto di Sanchez e voi mi dovete spiegare la differenza tra Taremi e Arnautovic. Perché sono due soluzioni uguali. Uguali. Due ragazzoni, fisiconi, due prime punte che ti servono nel momento del bisogno, se devono entrare. Ok? Ma ti danno la stessa soluzione. Allora, perché io devo essere contento di tenermi Arnautovic e a dare Inzaghi e Simone Inzaghi due soluzioni in panchina identiche? Perché io preferisco avere via Arnautovic, o Arnautovic come quinta punta, che va benissimo se rimane come quinta punta, perché io preferisco dare a Simone Inzaghi un altro tipo di punta? Un altro tipo di soluzione? Bene. Non andiamo a guardare il nome, guardiamo la soluzione del giocatore. Arnautovic è, se tu devi mettere su una punta di riferimento che stai perdendo, metti su Taremi, non metti su Arnautovic. Se tu hai bisogno di una punta che entra in partita subito, che poi adesso ci arriviamo anche sul discorso di Arnautovic, hai bisogno di una punta brevelina, come può essere Gudmus, può essere Chiesa, come può essere uno piccolino che è rapido, che salta l'uomo, che tu non hai. Ok? Quindi anche una soluzione diversa da Taremi. Io dico, Arnautovic, parliamoci chiaro, è un giocatore che quando entra ti spacca la partita? Te l'ha mai fatto? Entra 20 minuti, 15 minuti e ti cambia la partita? No, perché non è un giocatore strutturato per giocare 20 minuti e fare bene subito, perché è un giocatore fisico. Arnautovic è un ottimo giocatore se gioca tutte le domeniche, se ha continuità con il fisico che ha e l'età che ha. Quindi io, se voglio fare il passo in avanti e chiedo alla mia Inter di darmi un giocatore diverso, per Arnautovic. Questo è il discorso. Poi Arnautovic io voglio bene, può rimanere anche 20 anni, se fa gruppo va benissimo, ok? Ma io devo guardare le soluzioni che deve avere Simoninzaghi, non quello che mi fa fuori dal campo, va bene, è importantissimo, però, raga, è così. Cioè, ditemi le cose positive, sì, fa gruppo. Le cose negative quali sono? Che non è un giocatore che quando entra ti entra subito in partita, è un giocatore che si infortunia spesso, è un giocatore di 35-36 anni ed è una soluzione uguale, identica a Taremi, uguale, identica a Taremi. Quindi io preferisco avere un altro tipo di punta. Ripeto, spero che ci siamo chiariti su questo argomento. Chelsea-Inter, 1-1. Ci fanno gol agli ultimi minuti, ma quello non mi interessa. A me interessava ieri vedere la mia Inter. Rivedere la mia Inter perché contro gli Arabi è stata una roba imbarazzante. Squadra lunga, contropiedi, cose che io non ho mai visto. E ieri, e ieri, devo dire che si è rivista un po', un po', la mia Inter. Cose positive che ho visto. Prima cosa che è la più fondamentale, i reparti compatti. Oh, e qui iniziamo ad esserci. L'Inter deve avere i reparti compatti per poi ripartire tutti assieme, ok? Questa è la prima cosa che io volevo vedere e l'abbiamo vista. La fase difensiva. Abbiamo retto il più possibile quello che dovevamo reggere, però anche lì non benissimo, non diciamo benissimo, perché sennò il portiere non può essere il miglior in campo. Diciamo che abbiamo fatto quello che potevamo, visto come siamo messi fisicamente, ok? Perché il miglior in campo ieri è stato Sommer e Bissek. Quindi se tu hai il miglior in campo, un portiere, un difensore, significa che hai ricevuto 26 tiri nei fatti 6. Va bene, giochi contro il Chelsea. Ricordiamo che non aveva ancora vinto un amichevole, quindi non è che fosse in gran palla neanche sto Chelsea. Ok, però giocavano in casa, entusiasti e tutto, e ci sta. Partita studiata, diciamo, bene, ok? Perché l'Inter ieri ha fatto una partita intelligente, nel senso che sono stanco fisicamente, non posso reggiare il pressing, soprattutto contro una squadra di Premier, reparti i compatti, bassi, e poi si riparte. Ben Turan ha fatto un grandissimo gol, ha fatto un grande gol, ok? Quindi ci sono stati dei passi in avanti, però non così clamorosi. Abbiamo trovato l'equilibrio, che è quella cosa più importante. Poi non si può neanche aspettare più di tanto, perché quando a te manca uno come Lautaro, per chi, almeno io spero che tanti la pensino come me, Lautaro per noi è fondamentale. Per noi è un giocatore che ti cambia proprio il modo di giocare dell'Inter. È un giocatore che quando viene incontro la palla non gliela togli, non si fa anticipare, difficilmente. È un giocatore che quando gli arriva la palla sa saltare l'uomo girandosi e quindi ti mette in superiorità numerica, ti dà la possibilità di puntare l'uomo, ti dà la possibilità di farlo scarico, di fare uno o due con Turan, cose che gli altri, Correa non è in grado di fare. Ok? Poi, Correa ieri non è andato neanche malissimo, ok? Però, ripeto, secondo me non è dentro il progetto, lo useranno, c'è tanti che dicono che giocherà la prima, secondo me gioca Lautaro e Turan, poi magari mi sbaglierò, ma vediamo, mi auguro di no, mi auguro di no, perché Lautaro 60 minuti, 50 minuti li può giocare tranquillamente, Taremi dovremmo recuperarlo, quindi non mi interessa, bisogna vincere, perché perdi punti oggi, vabbè all'inizio no, mi tira il culo, ok? Quindi, io mi auguro che ci siano tutti. E, l'altra cosa positiva, è che fisicamente, stiamo un po' scaricando i carichi di lavoro, e le gambe iniziano a girare, più veloce. E quindi, cose positive ce ne sono state, vi ho spiegato cosa penso di Arnautovic, credo di essere stato chiaro, io non voglio, ragazzi, io voglio bene, però, io voglio che Inzaghi, abbia una soluzione diversa, per fare uno step in più, perché, noi abbiamo gli undici titolari, forti, bisogna che anche in panchina, siano di livello, se vogliamo provare, a fare qualcosa in più, e non parlo in Italia, parlo in Europa. Buona giornata a tutti, ciao belli. Grazie a tutti.